Ciao a tutti che ho attivato in questo nuovissimo episodio, questa serie di episodi di Monkey Island Monkey Island che mi sta piacendo sempre sempre di più Quindi, che dire, cosa dobbiamo fare? Ah, mi ho convinto a trovare le gente per la giurma Allora, sì sì, ora mi ricordo L'indovina ha detto che degli indigeni mi avrebbero aiutato Non c'è qualcosa di speciale Eh, devo ancora imparare a giocare, sì, dopo circa 4 ore di utilizzo, ma dettagli Quindi penso che ora andò a prendermi la barca Se chiudo le porte perché sono un ragazzo educato Su via, non potete non dirmi che non sono educato Quindi quello che... C'è... Mmm, perché te la vuoi? Ah, giusto, perché aveva promesso che dopo le 3 prove lei... Hai capito? Ora ho capito perché è tutto contento lui di andare a salvarla e robe varie Stufappe Allora... Mmm... E poi le linee usate Vai Oh... Che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? Guardate tutti questi soldi! Questi soldi! Ho qualcosa per tutti! Vieni, guardate! Vabbè, questi abbiamo già visti! Uhum Let me guardare il migliorno che hai! Uhum E' bello, un amico che apprecia le qualità! Io ho proprio il barco per te! Una buona per il migliorno! Ora, questa è un barco per il regno! Questo è un barco che sipetta per un reno! Quattro, diciamo, parliamo di 15 stateroomi Un luogo per un uomo in tutti! Ci sono due pochi, un'inizio, un'edimento, un'audito, ci sono una ruota per l'antica, ci sono una buona eroltata, si era una buona erà... 200 po' di vento del occhio, a fare decadence e tutto per una paga da un prix. Da parlare dell'prezzo, direttamente il money, vostro il money. Uh-huh. Uh... Actually, I was hoping to get one on credit Sorry, kid Neither a borrower nor a lender be That's just old Stan's philosophy If you've got a job The storekeeper in town might extend you some credit Then we'd have something to talk about Unless, of course, you've already got some other means of financing Hmm No, no more than 174 pieces of eight I think we must be talking about completely different ships here You've obviously been out of the ship market for quite some time I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? On second thought, this may not be the ship for me Okay, but I got five other guys coming back to look at this baby today Don't count on it being here if you change your mind So, what else can I show you? Allora Something not too expensive, but built to last Affordable quality Hey, that's my motto I've got just the boat for you Walk this way Arriba Questa di vikingia Now I can see you're a no-frills kind of guy But I can also tell that quality means a lot to you I mean, just look at the way you dress Rugged Like this baby She comes from a land far to the north Where the sea is as unforgiving as the men are tough And hey, you wouldn't happen to be from there, would you? No, no You just seem to have a sort of Nordic quality about you Eh, eh, forse capelli biondi Anyway, we're talking about a real value here How much would you like to spend? Ehm... Oh, no more than 174 pieces of eight I'm glad this ship doesn't have ears, my friend Come, ma perché? Because if she did, she'd slap your face Ehm... I don't think you've got the cash for this transaction either Ah, cattivo You don't have some other means of payment, don't you? Forse questa qui con il suo e le cone mi fa per me Ok, but I tell you I got a feeling You're gonna leave here today With a new, previously owned vessel So, what else can I show you? Ehm... That spiffy blue one by your office looks nice Maybe Emma Of course it does! It's mine! And it's not for sale What else can I show you? Um, how much do you want for yours? Eighth not I told you, it's not for sale Jeez, you're annoying But hey, so am I, right? Yes What else can I show you? Ehm... Ehm... I don't really have that much to spend Ecco Have no fear Every ship I sell is a bargain But if you're looking for a real steel I've got just the boat for you Walk this way Sì, she mi dada fuori economy Sério? This here is the famous Sea Monkey The only ship ever to make it to Monkey Island And come back with anyone aboard left alive Sì Or should I say anything? Wow The previous owners of this ship were two adventurous pirates They set off, like many before To find the legendary secret of Monkey Island And like many before, they disappeared forever Grazie per l'incoroggiamento Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island Without a single human aboard Some claim it was sailed back by a crew of... Chimps Chimps? There are no chimps in the Caribbean Ah, in effetti Oh shut up, it makes a good story Anyway, this baby is mine now That is until someone makes me an offer How much would you like to spend? Oh, no more than 174 pieces of eight Look, this is a very reasonably priced ship But not that reasonable I don't think you've got the cash for this transaction either Eh, it can be very nice You don't have some other means of payment, don't you? Money is no object Well, it is with me How much you got? On second thought, this may not be the ship for me Mmm Of course it isn't! You're looking for a much bigger boat I can tell So, what else can I show you? Mmm Mmm Actually, I'd like to go think about it some more Mmm Sure, sure, think it over I don't want you to feel pressured or anything Bye now No Vuole unirsi alla giurma Me l'avevo persa questa Oddio Siete trasportato? Cos'è Goku? Uh Uh A compass? An extra strong magnetic compass With your picture on it That's right It always points directly back here So if you're looking for a good deal You know, you know where to go I'll be right here when you come back But I can't guarantee that any of these ships will Right Uh They're moving fast today Yes siree Can't hardly keep anything in stock Si contaci He'll be back Eh Yeah sure Na 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 Non penso che però si unisca a me la maestra di spada Il maestro di spada Insomma dopo quella umiliata così di brutto No, ora mi fa tutta la storia Come osi avvicinarti al maestro di spada senza... Ah Ehm... Oh Ok Ok Ora andiamo dal capitano giusto? Quel cavo fino all'isolotta Oddio Sul serio ragazzi non so come farei senza gli aiuti Per fortuna Ehm... E' una cosa che fa parte del gioco E non è una cosa che tipo Eh sono dei cheat No E' una cosa che ti hanno messo quelli del gioco perchè sapevano che E' impossibile Allora dalle voodoo lady dobbiamo andare a cercare un pollo di gomma Poi non capisco perchè uno dovrebbe cercare un pollo di gomma per attraversare un cavo di ferro Che poi non è ferro diciamo metallo ma dettagli si si diciamo dettagli Andiamo ad aprire la porta della voodoo lady Voodoo lady Voodoo lady Enter this shit up Oh eccolo Ehm... 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 Ok Grosso pirata sull'isolotto Interessante 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 Ehm... 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 Doviamo buttarci su un cavo metallico con un pollo di gomma e una carrucola Cercando di volare un pirata forte Che probabilmente non ci guiderà per niente E che... Ehm... Probabilmente ci ammazzerà Forse dobbiamo anche batterlo con la spada Forse per conquistare la sua fiducia e dire Mare c'è una di quelle scene da film che dice Ragazzo sei il primo che mi batte da anni Sono dei voi Sono dei vostri Andiamo sulla riva Veloce corri Corri forest Corri 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 Di 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 Ok allora facciamo Facciamo Usa Usa pollo su cavo oh ma non ha senso perchè un pollo un pollo lento 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 oh che bello detto ma sono excuse me but the sign said there were restrooms in here sorry but that sign's a little out of date I used to have a thriving tourist business here I had animal wax tattoo demonstrations souvenirs but there was a little accident with one of the trained animals one of our guests was hurt very badly so I was shut down put out of business and since then I've lived here all alone and the only company I have is the same beast that mauled that unlucky tourist the same beast that made me a hermit a monster that just by coincidence is identical to one what attacked me when I was just a child mi dispiace and left me with these hooks instead of hands a deformed man jeez now I'm all depressed thanks a lot can't you just leave me alone now the governor's been kidnapped what that's preposterous oh really e mostragli la pergamena dai take a look at this note they left oh no this is horrible what are we going to do we could get a crew together and sail off after them ecco bravo dai accetta what an idea now if we only had a captain what about me ha you si ma perchè riri cattivo mi ho offeso che cacchia rire che cacchia rire that's a good one hey I'm serious eh eh lui no really ok let's see you prove it e quindi ora mi batte ehm ora mi fa battere la eh something horrible ora esce fuori un pony something so horrible that I stay awake at night just thinking about it cos'è un culo quello I don't mean to scare you mhm I'm sure a big brave guy like yourself will have no problem facing this monster after all it's much smaller than the beast that bit of my hands so many years ago ci scommette è un cagnolino let's just hope you're quicker than I was eh eh I never did get around to feeding him this week ha 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 silly me I'll let you open this last door yourself just let me get out of your way wait uh uh ha 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 getting cold feet no no I just don't know what I'm supposed to do mmm you're supposed to open that little door and if you're brave enough touch the beast inside oh is that all ok ok go ahead if you've got the guts I don't believe it è il papagallo eh non avevi le mani voglio vedere come lo tocchi no voglio vedere adesso ok cosa mi dice che devo ancora andare a chiamare il capitano ah non voglio prima far scivolare pollo su palo no volevo fare pollo su cavo ok scusate me non interrotto ok abbiamo sorpassato la città poi tenete il credito del negoziante della città quindi non stava scherzando il negoziante è il nostro amico con la cassaforte ok interessante interessante what if what if e se io andassi a sappare la casa del governatore ah no diciamo tutto per le due e mezza non sia mai che vado prima o dopo fottone di un di un di un pirata fast and furious fast and furious nano 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 io voglio tentare di aprire quella maniglia più forte di me se faccio tipo vabbè, basta chiamiamo il nostro amico non negoziante diamo se ci dà del credito ehm ring bell for service eh sì, certo allora voglio del credito ehm i'm interested in procuring a note of credit eh niente, ciao no, I think I'd just like to browse quindi dobbiamo convincerlo ok, quindi lo dobbiamo semplicemente aspettare giusto what do you think this is, a museum? Davy Jones lockers the last word in theft, fire and grog resistant storage devices anti-grog, ah, giusto don't you be messing with that did you just come in here to get out of the cold I don't need anything I want the combination stiamo qui aspettiamo what do you think this is, a museum? si, ho capito come on, just buy something no voglio vederti la cassaforte posso prendere il negoziante? prendi il negoziante eh, peccato what do you want? no, I think I'd just like to browse oh, be my guest, fancy pants fancy pants, fangara ok, penso che ci rivediamo appena si sbriga no, io non voglio fare le taglie in questa serie quindi aspettiamo qui più o meno come faccio a farlo? qui non posso prendere niente forse devo dargli qualcosa una t-shirt sì, do tipo dare boccale al negoziante ma gli interessa qualcosa il pollo, no? ho capito, ho capito fa più ok, non ho barato non ho barato ok, no non ho barato però però un uccellino mi ha detto che probabilmente io dovrei fare una cosetta, no? dovrei dovrei perché sinceramente l'uccellino mi aiuta perché io non posso non posso passarci due ore per fare una piccola cosetta mi piace sì, ho un lavoro sì, sì eh, io lavoro su YouTube, no? eh, questo è il mio lavoro sì, 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 è pronto, sì, sì, è dopo, dopo guarda un po' stando sulla cassaforte non ho capito qual'era la combinazione per fortuna che l'ho registrata let's see here what did you say your occupation was? uh uh um 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 I'm an acrobat with a traveling circus infatti, è vero you're one of them fettuccini brothers? where's your silly accent? and where are your silly slippers? come back when you got a job in a credible business eh, yeah, sure ora da riposare aspetta, posso rivedere la combinazione un, due, tre giù un, due, tre su ok un, due, tre giù un, due, tre su ok, ok ce l'ho Mary Island, Mary Island un, due, tre giù un, due, tre su look I told you she doesn't want to see you uh huh maybe if you asked her again hmm I guess I could hike all the way over there again vai vai ciao and don't touch anything and don't touch anything non lo so non lo so a memoria allora vediamo come fare con la mania devo fare un, due, tre giù allora allora uno due tre come faccio uno due no allora facciamo ti no 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 allora uno due tre mmm uno due tre questo è spingi maniglia io faccio tira no è uscito qualcosa a sinistra uno due tre no non è spingi e tira se faccio spingi devo tre 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 천 etc tre e è qu io che è 1,2,3